Domenica 7 maggio a Segusino si è svolta l'annuale assemblea della Proloco. Tra i vari punti all'ordine del giorno sono stati affrontati e approvati il bilancio 2016 ed il bilancio di previsione 2017. Un altro anno decisamente inattivo dal punto di vista economico. Quasi tutti gli eventi infatti hanno generato utili che, come da regolamento Uppli, devono essere reinvestiti. Significativa è stata la citazione dei principali eventi curati dalla Proloco, ma anche da altre associazioni, come la Fira del Rosario di ottobre e la Summerfest di giugno. Evidentemente è un bilancio positivo sia per quanto riguarda le diverse manifestazioni, sia per l'ingresso di persone da fuori comune che vengono a visitare le borgate e a partecipare alle nostre manifestazioni. Quindi direi che è positivo a 360 gradi. Successivamente è stato presentato il programma Eventi e Manifestazioni 2017, che vedrà come prossimi appuntamenti la tradizionale festa del Narciso a Migliese di Segusino, il 27 e 28 maggio prossimi. La Decima Andare a Tornare dal Doc del 2 giugno, evento in collaborazione anche con altre associazioni, e poi la Summerfest dal 16 al 18 giugno prossimi. È stato proposto poi un particolare progetto mirato alla riscoperta delle tradizioni culinarie segusinesi, che vedrà un'interazione sotto forma di contest che avrà probabilmente inizio fin dall'estate, per poi proseguire fino alla Fira Franca del Rosario di fine ottobre. Interessanti progetti anche per gli eventi natalizi, che oltre ai mercatini di Natale di fine novembre, potrebbe vedere andare in porto anche una particolare suggestiva iniziativa legata alla notte di Natale a Segusino, in occasione dell'apertura di tanti famosi presepi presenti in paese, peculiarità unica di Segusino per quel periodo. L'Assemblea, presieduta da Coppe, ha poi affrontato il tema della futura area camper che dovrebbe nascere presso le impianti sportivi del paese, ed è il progetto di location e cucina fissa per i tanti eventi annualmente in programma dalla Proloco, ma anche dalle tante altre associazioni di Segusino. I soci hanno inoltre deliberato l'entrata nel consiglio direttivo di altri due membri per affiancare e supportare il tanto lavoro da svolgere. Sono stati eletti con voto unanime Leo Zanella e Martina Lio. Infine, l'Assemblea è terminata col tesseramento soci 2017, ma soprattutto col canonico momento conviviale tutti in compagnia presso la pizzeria Cupido di Segusino. Nuovi progetti, tante idee per il 2017, ma anche per i prossimi anni, giusto? Sì, sicuramente, nel senso che si stanno progettando diverse cose che possano in qualche modo tornare utili al Comune e a tutta la cittadinanza, non solamente a livello di manifestazioni, ma con progettualità rispetto anche al territorio, che possano tornare utili a tutti anche per i prossimi anni, sicuramente. Siamo felici rispetto alla partecipazione dei segusinesi e soprattutto delle persone che vengono da fuori Comune. Il volontariato, sicuramente, diventa una parte importante della partecipazione della cittadinanza e comporta anche sia una spesa in termini di tempo e di volontà, ma porta anche molti frutti, per cui sicuramente il volontariato è un valore aggiunto che si dà al Comune e che i cittadini danno a loro stessi. L'invito quindi a tutti quanti a mettersi in gioco? Sicuramente questo sarebbe un buon augurio, quello di poter avere più partecipazione da parte dei cittadini e da parte di tutte le persone che possono portare qualcosa alle manifestazioni, al Comune, al territorio. Per cui invito tutti, chi ha tempo, chi ha voglia, chi ha possibilità, in una forma o nell'altra, a partecipare e a portare il proprio apporto. Buon lavoro e complimenti quindi a tutti i volontari della Proloco di Segusino, ma anche a tutti i volontari delle altre associazioni segusinesi. Un vero esempio di unione, forza, collaborazione e amore per il Paese e per il territorio.